È tempo di lavori a Soncino, dove l'amministrazione ha programmato la realizzazione di una ciclabile. Qui realizzeranno una ciclopedonale che fondamentalmente non si congiungerà a nessuno dei percorsi ciclopedonali realizzati finora da questa amministrazione. Il progetto, come tutti gli altri progetti realizzati da questa amministrazione, non è stato condiviso né con i cittadini, ma tantomeno con le minoranze consigliari, non essendo previste commissioni per questa amministrazione. E comunque la spesa si aggirerà intorno ai 144.000 euro, oltre alle spese già sostenute per i progetti, e sono tutti soldi nostri e dei contribuenti soncinesi. Le nostre criticità riguardano innanzitutto la mancanza di una progettualità più grande, tant'è che questa ciclopedonale inizia qui al monumento e si concluderà contro fondamentalmente un'abitazione alla fine di questo percorso, non portando vantaggi effettivi, perché il problema sostanziale di questa strada è la viabilità. Essendo molto difficile il passaggio di due auto su Viale delle Rimembranze, tant'è che è stato rinominato Viale delle Rientranze, perché per forza di cose, se transitano due auto, una è costretta a fermarsi in una delle rientranze costruite. Per cui anche in questo caso non viene risolto un problema, ma vengono comunque spesi in notevoli fondi pubblici. L'aria inoltre in occasione di alcuni eventi come la festa di primavera si riempie di automezzi, la minoranza quindi contesta la mancata previsione di soste alternative.